Ciao a tutti! A settembre, Associazione Culturale Fedora organizzerà un corso di sensibilizzazione alla LIS per studenti delle scuole superiori. Questo corso verrà organizzato all'interno delle scuole dopo la fine delle lezioni. Partirà con un minimo di 7 studenti fino ad un massimo di 15 partecipanti. Il corso si terrà una volta alla settimana per due ore, per un totale di 30 ore. Significa che gli incontri saranno 15. Se tu sei un insegnante o uno studente interessato a proporre questo corso alla scuola, puoi contattarci. Se vuoi dei dettagli, delle informazioni, puoi visitare il sito www.assnfedora.com. Lì troverai il nostro contatto email oppure il nostro numero di telefono e noi saremo disponibili a rispondere e darvi tutte le informazioni. Ciao a tutti!